Dormire poco o male aumenta la probabilità di ingrassare. Recenti studi hanno mostrato infatti che la durata del sonno può influenzare gli ormoni che regolano il senso della fame. Ora un nuovo studio su modelli animali, i cui risultati sono pubblicati sulla prestigiosa rivista Obesity, mostra che alimenti ricchi di grassi assunti nelle ore in cui si dovrebbe dormire fanno aumentare il peso più del doppio rispetto agli stessi alimenti assunti durante il giorno. Un primo e semplice passo nella lotta al sovrappeso sarebbe quindi quello di cercare di dormire bene e a lungo e mangiare soprattutto durante il giorno, a cominciare dalla prima colazione.